Con il termine ingegneria definiamo la scienza e la tecnologia utilizzata per soddisfare i bisogni e le richieste della società. Queste richieste includono edifici, aerei, navi o software per computer. La creazione di nuove tecnologie e infrastrutture deve essere sviluppata in modo efficiente ed economicamente vantaggioso. Per ottenere questo, manager ed ingegneri devono avere una soluzione specifica a portata di mano. A volte però questo può portare a scorciatoie nella progettazione ingegneristica al fine di ridurre i costi di costruzione e fabbricazione. E occasionalmente queste scorciatoie possono portare a errori di progettazione imprevisti. Inoltre nel campo dell'ingegneria viene sottolineata l'importanza della sicurezza. Imparare dai fallimenti ingegneristici del passato e dai disastri è un ottimo modo per rendersi conto di quello che può accadere se non vengono prese le precauzioni di sicurezza appropriate. I test di sicurezza, come quelli di trazione o l'analisi degli elementi finiti, chiamata spesso FEM, aiutano a fornire informazioni ai progettisti su quali forze e sollecitazioni massime possono essere applicate ad una determinata area di un progetto. Queste misure precauzionali aiutano prevenire guasti dovuti a sovraccarico e deformazione. Ma quando si verifica un guasto? Il guasto si verifica quando una struttura o un dispositivo è stato utilizzato oltre i limiti di progettazione al punto da inibirne il corretto funzionamento. Se ad esempio una struttura è progettata per supportare solo una certa quantità di sollecitazione, deformazione o carico e l'utente ne applica quantità maggiori, la struttura inizierà a deformarsi e alla fine accedere. Quindi sono diversi i fattori che contribuiscono al fallimento, tra cui un design imperfetto, un uso improprio, costi e comunicazioni errate. Perché vi sto raccontando tutto questo? Beh, perché parlando proprio di errori nel design vogliamo spostare l'attenzione su Venezia per parlare di un fallimento ingegneristico di uno dei ponti più belli della città e secondo qualcuno addirittura del mondo. Vi sto riferendo al ponte della Costituzione. Difficile rimanere indifferenti di fronte ad un ponte al contempo così bello ma anche così criticato, per tutta una serie di problemi che vedremo nel dettaglio. Visto che finirete questo video piuttosto arrabbiati vi chiedo ora di iscrivervi al canale perché dopo non sarete più nel mood giusto. La città di Venezia si estende su una serie di 119 isole che si trovano nella laguna di Venezia, un vasto specchio d'acqua assalata, separato dal mare Adriatico da un lungo pezzo di terra. Nessun'altra città al mondo ha così tanti ponti, sia grandi che piccoli, quindi l'aggiunta di un altro non dovrebbe suscitare molta impressione, anzi direi che in termini di know-how Venezia non è assolutamente messa male. Se non fosse per il fatto che la costruzione di nuovo ponte pedonale sul Canal Grande è un evento nazionale ed internazionale, ancor di più se tantissime persone lo giudicano un flop clamoroso. I ponti di Venezia fanno molto di più che unire insieme le diverse parti della città, servono come punti di riferimento, luoghi di incontro, punti di definizione in un tessuto urbano assolutamente unico. Il progetto di un quarto ponte sul Canal Grande aspira a soddisfare pienamente queste esigenze, apportando un elemento nuovo e vitale. Torniamo indietro al novembre 1999, quando Santiago Calatrava è stato incaricato di progettare questo nuovo ponte. Il progetto si colloca in un punto estremamente strategico, che collega la stazione ferroviaria con Piazzale Roma. Il ponte è importante sia dal punto di vista funzionale che simbolico, e offre ai visitatori le prime impressioni di Venezia e una vista panoramica sul Canal Grande. È stata prestata attenzione a integrare il ponte con le banchine su entrambi i lati. I gradini e le rampe sono progettati per raggiungere vitalità al canale, mentre le spalle, a forma di mezzaluna, lasciano ai pedoni in libero accesso le banchine. Le aree alle due estremità fungono da estensioni del ponte, creando nuovi spazi celebrativi per Venezia. Sul lato sud, il progetto prevede anche un nuovo passaggio tra Piazzale Roma e le piattaforme di ormeggio per il trasporto acqueo. Il ponte è lungo 94 metri, con una campata centrale di 81 metri. Sale da un'altezza di 3,2 metri a 9,28 nel punto medio. L'elemento strutturale, interamente in acciaio, è costituito da un arco centrale di raggio molto ampio, parliamo di 180 metri, e con due archi laterali e due inferiori. Aderenti agli archi ci sono travi costituite da tubi e piastre d'acciaio disposte radialmente a raggio centrale. I gradini all'impalcato del ponte sono realizzati in vetro temperato, per questione di sicurezza, pietre naturali d'istria e trachite, come vedremo dopo, riprendendo il disegno della pavimentazione esistente, in quanto le spalle in cemento armato sono rivestite della stessa pietra. Il parapetto è interamente in vetro, con un corimano in bronzo che ne costituisce il bordo superiore. Di notte, lampadine folorescenti, poste all'interno del corimano, illumineranno il percorso, aumenteranno l'effetto scenico creato dall'illuminazione da sotto il ponte trasparente, mentre dei riflettori posizionati in basso sulle pareti, illumineranno il terreno alle due estremità. Tutto davvero molto bello, spettacolare, ma quindi dove sta il problema? Beh, dovete sapere che il ponte ha ricevuto oltre 5.000 richieste di risarcimento e nelle prime tre settimane di inaugurazione, ben 10 persone che lo attraversavano sono finite all'ospedale. Un tribunale italiano ha stabilito che l'architetto spagnolo deve pagare la città per il superamento dei costi e la negligenza nella progettazione difettosa. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i problemi di questo ponte che ogni giorno viene attraversato da ben 15.000 persone, con spesso dei feedback molto negativi. Completato nel 2008, il progetto è stato controverso, devo dire, fin dall'inizio. Proteste e accese critiche per la sua collocazione risuonano dal momento del suo annuncio nel 1999. Problema numero 1, l'accessibilità. Essendo composto da scalini, risulta non accessibile per gli utenti su sedie a rotelle. Inoltre, essendo vicino ad un terminale degli autobus, molte persone che lo attraversano portano con sé uno o più bagagli a mano. Capite bene che scalini e bagagli pesanti non vanno assolutamente d'accordo e questo crea anche dei grossi problemi di manutenzione, poiché i gradini si usurrano molto più velocemente se delle valigie continuano a sbattere contro. Pensate che già tantissimi gradini sono stati già sostituiti, nonostante da progetto avrebbero dovuto avere almeno una vita di 20 anni. Senza contare poi che anche gli oggetti, come ad esempio i passeggini, si rovinano con un passaggio di questo genere. Problema numero 2, e forse anche quello più grave, si scivola davvero tanto. A parte la sottile striscia di marmo nel centro, il pavimento è ricoperto di vetro. D'estate magari non è un grosso problema, ma quando piove o la nebbia scende su Venezia diventa davvero difficile rimanere in piedi. L'ufficio di Calatrava ha dichiarato che i gradini non sono più scivolosi di altre parti della città, ma i cittadini non sono tanto d'accordo, tant'è che negli anni ci sono state delle proteste davvero molto particolari, come quella di persone sugli sci che mostravano quanto fosse scivoloso il ponte nella parte sommitale. Se ci pensate a livello fisico è piuttosto semplice, perché è una questione puramente di attrito. Che cos'è alla fine l'attrito? È la resistenza fra due superfici. Quando si cammina su una superficie stabile, come ad esempio una strada, la gomma delle scarpe va ad incastrarsi nelle varie irregolarità della superficie su cui stiamo camminando, e questo ci dà stabilità. Nel vetro la superficie è liscia, e se ci aggiungiamo dell'acqua, in quanto il clima Venezia è spesso umido, e soprattutto la pendenza in discesa, capite il perché di così tante cadute. In caso di ghiaccio, poi, la situazione è peggiore in maniera incredibile, diventando di fatto una pista di pattinaggio. Inoltre, per complicare ancora di più lo scenario, dovete sapere che i gradini del ponte hanno lunghezze diverse, rendendo ancora più scomodo il passaggio pedonale. Problema numero 3, i costi. Ci sono diverse stime, ma le più accreditate riportano un costo complessivo di questa infrastruttura di 13 milioni di euro, con oltre 5 anni di lavori complessivi più infinite modifiche e contenziosi. Ad esempio, il Comune ha messo recentemente a bilancio uno stanziamento di 500 mila euro per la sostituzione, nel 2022, di alcuni gradini in vetro con trachite, un materiale che dovrebbe, in primo luogo, ridurre i costi di manutenzione perché si romperebbe meno di frequente, e in più ridurre anche il numero di cadute, poiché il coefficiente di attrito è superiore. Non è finita qui. La corte ha stabilito che i tubi d'acciaio utilizzati sul ponte erano troppo piccoli. Il famoso ascensore di vetro a forma d'uovo che è stato aggiunto successivamente per l'accessibilità si è surriscaldato sin da subito, rendendolo di fatto poco funzionale. Un tribunale ha ritenuto che dovesse essere rimosso per motivi di sicurezza, creando un costo aggiuntivo per la città di 44 mila euro. Il Telegraph, poi, ha osservato che quando gli è stato chiesto più di un decennio fa di rispondere a tutte le critiche, Calatrava ha notato che non ha avuto particolare influenza nella selezione della società appaltatrice che ha costruito fisicamente la struttura. Il suo lavoro, ha detto, era limitato all'estetica. L'azienda ha dichiarato che il Montascale era di fatto incorporato nel progetto iniziale, svelato alla fine degli anni 90, ma è stato bocciato dal Consiglio Comunale. Quello che vi sto per dire poi non vi piacerà, poiché hanno affermato che gli utenti su sedia e rotelle avrebbero potuto prendere tranquillamente il taxi acqua o vaporetto. Come vedete, purtroppo è un continuo scaricare le colpe fra una torre all'altro. E questa non è nemmeno la prima volta in cui il famoso architetto ha problemi con un comune per la complessità dei suoi progetti e soprattutto il tempo necessario per realizzarli. Nonostante ciò, i ponti sono una delle sue specialità, avendone progettati 35 in totale nella sua carriera. Il primo era situato a Barcellona ed è stato completato nel 1987. Come vedete, ragazzi, quando si parla di ingegneria, a prescindere dal campo di specializzazione, bisogna sempre avere un occhio di riguardo per la funzionalità dei progetti e verificare che questi siano ben realizzati, per evitare dei terribili incidenti come quello del ponte Morandi, o anche se in misura minore, quello che abbiamo visto nel video di oggi a Venezia. Ripeto, esteticamente risulta davvero essere un capolavoro che offre delle viste su Venezia senza il minimo paragone al mondo. Tuttavia, poi, quando ci si scontra con l'operatività di tutti i giorni, perché avete visto che migliaia di persone ogni giorno lo attraversano, possono sorgere dei problemi molto gravi. Ci sono persone che sono finite in ospedale e hanno chiesto dei grossi risarcimento al comune, in quanto quel ponte in alcune condizioni, come ad esempio in presenza di ghiaccio, risulta davvero difficilmente percorribile. Venezia è una città senza eguali al mondo, è davvero spettacolare, ma purtroppo in questi casi risulta famosa nel mondo per dei progetti realizzati davvero male. Spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, meglio se è risultato interessante, perché è difficile apprezzare feedback di questo genere. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, perché comunque la questione risulta essere piuttosto dibattuta. Come avete visto, il comune deve stanziare dei nuovi fondi per sostituire la pavimentazione con qualcosa che offre un coefficiente d'attrito superiore e che non si rompa così di frequente. Se contenuti di questo genere vi piacciono mi raccomando lasciate il like e soprattutto scriveteci nei commenti quali altri disastri dell'ingegneria volete vederci commentare qui sul canale. È sempre bello prendere anche spunto da quelle che sono le vostre principali curiosità. Questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Ingegneria Italia. Ciao a tutti ragazzi!